Buongiorno, Milano iFidelity Day 2, siamo qui di domenica mattina, Federico Licciardello è qui con noi e ci racconti qualche cosa della tua sala. Certo, buongiorno a tutti, abbiamo ottime novità quest'anno, a partire dal lettore CD Griffon Ethos, una macchina pazzesca dal design futuristico con ingressi digitali, con possibilità di leggere DSD fino a 512, quindi insomma una macchina straordinaria, poi abbiamo come altre novità due nuove rappresentanze, Koretsu che sono testine storiche, insomma giapponesi, che tutti noi conosciamo, e i giradischi Bergman che è una ditta danese, specializzata in questi giradischi ad aria, con un braccio tangenziale e piatto sospeso appunto ad aria e con un comprensore che insomma danno un suono di grandissima dinamica, diffusori, novità anche quest'anno per Proa che sono le K6 Signature e le Response di B3 invece per il modello un pochettino più piccolino, pilotate dall'integrato Pass Int 25 che è un 25 W in classe A. Ti ringrazio e tra l'altro queste piccoline bianche che abbiamo appena sentito con una selezione musicale che io avevo preparato, adesso lo posso confessare, per quelle grandi, quindi una selezione musicale piuttosto impegnativa sul piano dinamico e anche come potenza richiesta in gamma bassa, ma come forse poi vi racconteremo meglio più avanti, l'esame superato a pieni voti. Grazie, ottimo, sono contento. Grazie a te Federico per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, alla prossima, alla prossima edizione. Grazie a tutti.